Misure shock, è questa la ricetta che l'ordine dei commercialisti e consulenti del lavoro propongono al governo per sostenere aziende e lavoratori in questo momento di grandissima difficoltà economica derivata dal rallentamento e lo stop della maggior parte delle attività produttive per contenere il contagio da coronavirus. Quello che è stato presentato proprio ieri alla Commissione Finanza del Senato è un vero e proprio piano shock per salvare sia le imprese ma anche i professionisti che le assistono pensando che forse per alcune di loro le prospettive non saranno così rose. L'intervento è costituito da una serie di proposte mirata a dare ossigeno alla parte produttiva del Paese, compresi gli studi professionali che seguono da vicino le vicissitudine delle imprese assistite e dei loro dipendenti. Alcuni di questi interventi senza entrare troppo dettagliatamente sugli emendamenti proposti riguardano la sospensione, dato fondamentale, fino al 30 giugno 2020 dei termini di versamento con rateazione di versamenti sospesi a partire da settembre 2020. Quindi sospensione per esempio di tributi ritenuti, contributi, premi assicurativi, diritto annuale della Camera di Commercio, ancora sospensione di avvisi bonari, accertamenti con adesione eccetera. Importante è anche l'utilizzo di ammortizzatori sociali per andare incontro ai lavoratori.